La sesta generazione della Opel Corsa è la più innovativa nella storia di un modello iconico venduto in circa 14 milioni di unità a partire dal 1982. Tecnologicamente avanzata offre un design dalla forte personalità, temperamento sportivo e una gamma che comprende una versione totalmente elettrica. La nuova Opel Corsa è, con i suoi 337 km di autonomia, guidando come prescritto nel ciclo WLTP, può essere ricaricata all'80% in mezz'ora ed è l'auto perfetta per essere utilizzata tutti i giorni. La potenza di 100 kW e la coppia istantanea di 260 Nm ne sottolineano le doti di dinamismo, mentre la dotazione di sistemi di connettività e assistenza alla guida è paragonabile a quella di modelli di fascia superiore. Grazie ai benefici fiscali, al bonus ambientale e ai minori oneri di manutenzione, la motorizzazione elettrica offre costi di gestione ridotti con un costo complessivo d'uso simile o migliore rispetto alle versioni con motori a combustione interna. Affascinante nel design, con il frontale visor e tecnologicamente all'avanguardia nel settore dei SUV compatti, il nuovo Opel Mokka rappresenta il presente e il futuro del marchio. Nella gamma, una versione completamente elettrica, con motori da 100 kW che affianca le unità a benzina 1.2 o diesel 1.5 da 100 a 130 CV di potenza. Divertente, efficiente e completamente innovativo, Opel Mokka simboleggia esattamente i valori del marchio. Entusiasmo, accessibilità costruito in Germania. L'offerta di equipaggiamenti avanzati in materia di assistenza alla guida e di connettività si pone ai vertici della categoria. Prima Opel ibrida plug-in a trazione integrale, Grandland X Hybrid 4, si colloca al vertice della famiglia dei SUV del marchio. L'unità termica e due motori elettrici, uno anteriore e l'altro posteriore, offrono una potenza complessiva di 300 CV per prestazioni di livello sportivo e al tempo stesso permettono la marcia in condizioni ottimali in ogni tipo di ambiente, dalla città all'autostrada all'off-road. Il sistema ibrido consente l'utilizzo in puro elettrico a emissioni zero per circa 60 km e di limitare a valori minimi consumi ed emissioni nei viaggi più lunghi. Il massimo dell'efficienza per un'auto elegante e dinamica, confortevole e spaziosa, ricca nelle dotazioni di connettività e assistenza alla guida. Opel Zafira e Life è la monovolume per viaggi esclusivi a emissioni zero al vertice della gamma Opel. Offerta in tre taglie per ospitare fino a nove passaggeri, nel massimo comfort e in un ambiente ricco di equipaggiamenti come porte scorrevoli anche elettriche, sedili configurabili rivestiti in pelle, tetto panoramico, si uniscono ai più avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla guida. Opel Zafira e Life permette di scegliere tra due livelli di capacità delle batterie, da 50 o 75 kWh, per un'autonomia che può raggiungere i 330 km guidando come prescritto nel ciclo WLTP.